Procediamo quindi con la cancellazione Guardate tutte le macchinette del signor Celeste Franco dallo stato di famiglia? Si Con chi sei uscito? Con chi sei uscito? Che amici mio? Io la serva a te non te la faccio Hai capito? Lo sai che mi ricordi quando fai così? Perché tu pensi essere meglio Si In nove anni nessuno di voi mi ha mai cercato Me la saluto mamma No che te la saluto mamma Ma che sta succedendo? Niente, non succede niente Non succede le cose in camera da letto? Oggi Ciao Mamma fatta così che ricasca sempre Dove stanno le mie vestite? Ma perché? Questi che ti ho regalato io non ti piacciono Guarda quando è bella Signora lei che dice a casa tutto bene? Tutto bene? Non mi sto rivolgendo a lei Mi sto rivolgendo alla signora Si va tutto bene Sti cazzo dei padri Te devono rovinare la vita Per più forte di loro Già io voglio sta qua con te Ma per me non mi va che fa la fine di mia madre Sei la mamma più bella di voi Si Non siamo più tu ragazzini che si vanno a nascondere Resta qui Ma io voglio andare Quando ci sono i rumori dobbiamo aspettare Eh Non posso più aspettare Grazie a tutti